Sta per concludersi l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Siamo in questo momento al 92esimo minuto di questa andata che si sta concludendo con la vittoria all'Artemio Franchi della Fiorentina con il risultato di 1-0 contro l'Atalanta, una vittoria di misura per i viola che potrebbe essere fondamentale in vista del ritorno che ci sarà fra tre settimane al Geou Stadium a Bergamo. La Fiorentina sicuramente ha fatto una partita nettamente migliore dell'Atalanta, una dell'Atalanta peggiore in questa stagione, abbastanza deludente. Scamacca a partito della panchina non ha fatto una buona prestazione, Bacher è entrato dalla panchina e è stato praticamente il peggioro in campo, disastri su disastri, un gol ha mangiato incredibilmente a porta vuota. In questo momento l'Atalanta è in attacco al minuto 93, quindi manca due minuti alla fine. Bacher si è mangiato un gol clamoroso, ha sbagliato veramente di tutto. L'Atalanta, attenzione, no, l'hanno spazzata via, potrebbe essere pericoloso. Bacher sicuramente uno dei peggiori in campo. La partita la sta decidendo, un gol meraviglioso di Mandragora che da fuori aria ha fatto un tiro a giro, un tiro d'esterno, cioè ha fatto così proprio una parabola. Prego per il disegnino, per delle illustrazioni quando volete nei commenti. Che sta decidendo la partita, un gol veramente meraviglioso. Come ho già detto, un'Atalanta veramente deludente, non mi aspettavo un'Atalanta così. Ha brillato pochi, sicuramente quello che ha brillato dall'Atalanta del solito, Carnesecchi, che ha evitato un raddoppio, un 3-0, ha evitato veramente di tutto. Non ci fosse stato Carnesecchi, la partita avrebbe avuto appunto una distanza molto più ampia. Carnesecchi ha evitato veramente tutto e sicuramente l'Atalanta, data la partita che ha fatto, un 1-0 va anche abbastanza bene grazie a Carnesecchi, ma sicuramente fra tre settimane l'Atalanta dovrà entrare con un altro atteggiamento appunto per provare a sognare la finale di Coppa Italia, che appunto sogna tanto Vincenzo Italiano, come ha detto nel pre-partita, che sogna tanto, si parla di un suo possibile addio appunto a destilazione Napoli, ci avevo fatto anche il video parecchio tempo fa, e se adesso è riuscita la notizia, e appunto nel pre-partita gli avevano chiesto se desiderava tanto questo trofeo, dato che si parlava di un suo possibile addio al termine della stagione, lui non ha parlato, non ha commentato su un possibile addio, ma ha detto che sarebbe onorato di portare questo trofeo a Firenze, soprattutto i ricordi di Gio Barone, e quindi bisognerà vedere. Ultima azione nel frattempo, 95esimo l'Atalanta in attacco, e mi sa che si fa poco e niente, mi sa che la partita finale appunto sui risultati di 1-0, dove appunto la Fiorentina vince questa gara di andata, sicuramente mi aspettavamo molto più spettacolo da queste due squadre, da una partita che era finita 3-2 all'andata, il ritorno poi non si è giocato il 19 marzo, perché appunto ha avuto il malore Gio Barone, però sicuramente è stata una partita molto combattuta, la Fiorentina ha giocato molto meglio sicuramente, però poco spettacolo con fronte a quello che mi aspettavo. Secondo voi l'Atalanta riuscirà a rifarsi appunto al ritorno, contando anche che recupera De Keteler, e sperando appunto che l'Atalanta non abbia altre assenze nel frattempo, dato che De Keteler ci sarà già e tornerà anche già per questo weekend, quindi tornerà sicuramente per la Coppa, i fortuni permettendo nel frattempo in queste tre settimane, che sono anche abbastanza lunghe, nel frattempo è finita la partita, e come ripeto 1-0 per la Fiorentina, meritatissima, sicuramente si merita anche una distanza maggiore, l'Atalanta riuscirà a recuperare al ritorno? ditemi la vostra, ciao!